ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono massimiliano e voi siete su sub h2o prima di iniziare questo video volevo come al solito ricordarvi di visitare la pagina facebook infatti siamo sempre molto attivi pubblichiamo davvero tanti articoli ed è davvero secondo me molto interessante detto questo iniziamo subito con l'argomento del video oggi sarà infatti un video un po' particolare infatti parlerò di quelli che sono gli errori che commetto più spesso prima e durante un'immersione voglio parlarvene perché magari sono degli errori che commettete anche voi o magari potrebbe essere uno spunto per evitarli i più esperti magari si faranno delle risate ma va bene così fatemi sapere con un commento se anche voi commettete questi errori o se li avete commessi in passato o addirittura se ne commettete altri io adesso oltre ad elencare quali sono gli errori vi spiegherò anche come sto cercando di porre rimedio detto questo iniziamo subito a vedere quali sono i sei errori che commetto più spesso errore numero 1 non fare la lista dell'attrezzatura da portare prima di un'immersione questo è un errore forse frequente per chi è alle prime armi infatti dobbiamo ma devo anch'io pensare che prima di un'immersione ogni componente dell'attrezzatura è praticamente fondamentale immaginate ad esempio di dimenticare la pinna lo snorkel l'erogatore o anche qualche peso in più ecco questo è lo scenario che si può verificare e personalmente mi è capitato durante un'esercitazione in piscina avevo dimenticato nello specifico un calzare e quindi ho dovuto indossare la pinna senza fortunatamente in questo caso non ha pregiudicato la mia immersione e ho potuto comunque fare la mia esercitazione in piscina certo non con lo stesso comfort ma se dovesse capitare una cosa del genere in mare o peggio dimenticare qualcosa di veramente fondamentale potrebbe far pregiudicare la vostra immersione e questo vi potrebbe fare arrabbiare e non poco proprio per questo è secondo me buona abitudine io l'ho fatto scrivere una lista dell'attrezzatura da portare questa servirà anche dopo quindi successivamente all'immersione perché vi farà da promemoria sull'attrezzatura che invece dovete ritirare per evitare di dimenticarla lì sul posto errore numero 2 non preparare l'attrezzatura si sa prima di fare un'immersione dobbiamo indossare muta pin snorkel calzari computer subacqueo e via dicendo ma immaginate che confusione si crea se non prepariamo ogni singolo accessorio beh a me è capitato e non è stato per nulla piacevole motivo per cui è buona abitudine secondo me cominciare a preparare l'attrezzatura anche da casa ad esempio se abbiamo il gav cominciare a smollare gli spallacci se abbiamo il pedagno cominciamo ad assicurarlo magari in una tasca del gav possiamo anche ad esempio mettere lo snorkel in posizione e ad esempio regolare già la cintura con i pesi che abbiamo utilizzato magari nell'immersione precedente e via dicendo solo così non avremo problemi prima dell'immersione e tutta la preparazione sarà più veloce errore numero 3 non fare la corretta pesata io onestamente tralascio spesso questo dettaglio ma è chiaramente un errore perché questo mi comporta poi delle difficoltà durante la discesa e sono costretto ad aggiungere dei pesi in più è vero si possono comunque posizionare all'interno di una tasca del gav però è comunque buona norma essere già pronti e questo mi ricollego all'errore precedente al numero 2 ma comunque mi riallaccio al quarto errore errore numero 4 pinneggiare durante la discesa seppur involontariamente questo è un errore che faccio spesso cioè quello punto di pinneggiare anche se minimamente durante la discesa questo mi fa venire il dubbio ad esempio che la pesata non sia corretta quindi cerchiamo di stare immobili durante la discesa io ci proverò errore numero 5 non guardare frequentemente il computer subacqueo questo è un errore da quello che mi dicono anche i più esperti che noi novizi commettiamo più spesso durante l'immersione magari siamo incuriositi nell'ammirare un pesce o qualsiasi altro organismo marino e ci dimentichiamo spesso di guardare il computer subacqueo beh questo è un errore che purtroppo può rivelarsi grave infatti potremmo trovarci ad una profondità non voluta ed inoltre potremmo anche non avere bene sotto controllo le nostre scorte d'aria errore numero 6 questo errore si verifica quando magari andiamo in vacanza cioè quello di non informarsi subito sulla possibilità di un'immersione questo è un errore che personalmente ho commesso durante la mia vacanza a tenerife infatti prima di partire non ho preso contatti con un diving per cui sono arrivato lì e durante la vacanza ho cercato di come avete visto anche dai video di ritagliarmi del tempo per effettivamente andare in un diving ed organizzare un'immersione però questo è senz'altro sbagliato perché comunque come sappiamo il meteo è molto variabile potremmo ad esempio non avere durante i giorni di vacanza dei giorni effettivamente favorevoli perché comunque i nostri giorni sono limitati quindi è buona secondo me norma cercare di fare l'immersione il più presto possibile inoltre i diving possono anche non avere la disponibilità durante quei giorni quindi mi raccomando se volete fare una vacanza e avete in mente di fare delle immersioni cercate già da subito di prendere contatti con i diving del luogo in cui andate non vogliamo ad esempio per delle condizioni meteorologiche sfavorevoli precluderci la possibilità di vedere un nuovo fondale e dei nuovi organismi inoltre i diving tengono sempre sotto controllo il meteo per cui saranno anche loro a consigliarci quali sono i giorni migliori detto questo io ho finito qui con questi sei errori che commetto come ho detto all'inizio fatemi sapere se anche voi commettete questi errori se ne commettete degli altri se li avete commessi in passato e come avete rimediato in più io vi ricordo di iscrivervi al canale se vi piace quello che faccio mettere un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e vi invito a seguirmi sui social su facebook ad esempio siamo molto attivi abbiamo una nostra pagina dove sono presenti tantissimi articoli e se volete potete visitare anche il mio profilo instagram detto questo noi ci vediamo al prossimo video ciao